musica 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 che succede? niente la macchinetta non va andava benissimo? no no guarda ti do la dimostrazione che la macchinetta funziona totalmente questa è la biglia dell'intelligenza 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 che? un paziente intellettivo a posto stiamo a cavallo io la dimostrazione che basta prenderla in base a rimbalzo lo dico in un certo modo così in base a rimbalzo ma tra la sua altezza dell'imbalzo uno riesce a vedere la efficienza della persona guarda prendi la pallina semplicissima basta fare un lancio secco e vediamo l'altezza dell'imbalzo guarda ecco notare il QI di una persona quindi ti fa la dimostrazione che la macchina funziona perfettamente anche